Sulle candide distese della marmolada si è corsa la direttissima delle Alpi, ottava edizione della classica discesa libera valevole per la Coppa Fisi. I concorrenti, fra i quali abbondano valorosi rappresentanti delle nostre più rinomate squadre militari, partono con uno slancio magnifico. Vittorio Chierroni, delle fiamme gialle di Predazzo, ha già distanziato gli altri con una corsa fulminea e giunge al traguardo in due primi e 58 secondi. Nella categoria femminile si impone la signora Ruth Graffer del Guff di Genova, che ha abbassato il primato finora detenuto da Frida Clara. Premi e sorrisi non mancano ai vincitori.